Ciao ragazze e bentornati a un nuovo video mi spiace aver fatto passare così tanto tempo dall'ultimo video che ho caricato che è il lecce per tutti i mesi però come le ragazze che mi seguono anche su facebook sanno il mio computer non funziona più quindi ho qualche difficoltà nel girare i video montarli soprattutto montarli perché girarli giro col telefono però io li editavo con il mio computer adesso dovrebbe editare il mio fidanzato perché non so usare il programma di editing del mac quindi diciamo è fino a quando non avrò un computer nuovo non c'è questo piccolo problemino comunque passiamo al video di oggi che sarà il video dei prodotti promossi e bocciati nel mese di marzo per fortuna c'è solo un bocciato per fortuna e sono queste salviettine struccanti della pupa queste sono 25 le ho pagate 9,50 euro all'outlet sono pessime non sono per niente imbevute non struccano assolutamente niente e naturalmente per cercare di struccare uno va a strofinare sull'occhio quindi l'occhio si irrita e diventa tutto rosso io sì cerco adesso di utilizzarle per il viso ma comunque noto che non riesco ad eliminare tutto il trucco sono veramente pessime passiamo invece ai promossi promuovo questi due gloss di pupa lo 02 e lo 03 della Hot Tropics pagati 2,90 euro all'outlet se volete vedere il video haul ve lo lascio qui così fate anche un'idea delle cose che ho preso questi due li ho utilizzati molto spesso proprio perché mi sono piaciuti tanto sono due gloss per niente appiccicosi e molto pigmentati l'unico problema è che hanno la durata di un gloss praticamente nulla devo dire però comunque che lo 02 è molto più facile da applicare rispetto allo 03 proprio perché lo 03 è molto più pigmentato oggi non riesco a parlare e quindi bisogna fare molta attenzione quando lo si applica perché si rischia di lasciare il bordo più scuro e l'interno più chiaro quindi bisogna starci molto più dietro rispetto allo 02 lo 02 l'unica cosa è che non è così sparaflesciato che per me è un bene ma è un rosa tranquillo questo mese promuovo uno smalto che è questo smalto di Kiko ed è il 245 è un colore bellissimo che io ho ricevuto vincendo un giveaway è un viola scuro con dei riflessi dorati fucsia è bellissimo promuovo questo smalto perché io utilizzo gli smalti solo sui piedi perché sulle mani faccio il gel quindi la mia recensione è per quanto riguarda i piedi è uno smalto che ha una passata è bello però con due passate è ancora più bello ma io lo utilizzo tranquillamente anche con una sola passata utilizzando le ballerine senza calzini le unghie vanno a sbattere contro la scarpa e ogni tanto lo smalto potrebbe anche schieggiarsi questo non lo fa per niente mi piace veramente tanto soprattutto il colore perché è veramente un colore particolare rivaluto questo roll on BB cream della Garnier l'avevo bocciato perché non copriva le occhiaie però utilizzandolo in questo periodo che è un pochino meno occhiaie devo dire però che riesce a coprire quelle poche occhiaie che ho quindi secondo me è un prodotto che va bene soltanto per quelle ragazze che hanno poche occhiaie fortunate loro però io personalmente non lo ricompro perché normalmente non ho poche occhiaie di solito sembro più un panda che una persona però comunque diciamo lo rivaluto e lo utilizzo soltanto in quei giorni in cui veramente ho poche occhiaie o semplicemente non me ne frega niente che le occhiaie si vedano di nuovo una crema mani questa qui che vi ho fatto vedere sempre nel video haul questa qua è della Lovea Lovea non ho un solaccento è una crema bio nutritiva al carite è una crema molto profumata se non vi piacciono le creme molto profumate non prendetela la promuovo per il semplice fatto che nutre veramente bene le mani le lascia morbide e non unte si assorbe subito ed è fondamentalmente quello che io chiedo da una crema mani perché già io mi secco di mettermi le creme poi se vado a prendere una crema mani che ci mette tanto ad essere assorbita non la userò mai questa qua invece la sto utilizzando tantissimo mattina e sera ma anche durante il pomeriggio se me lo ricordo mi piace molto costa 4 euro per 100 ml ma ne basta veramente veramente poca perché se no fa l'effetto contrario cioè ci mette molto più tempo ad essere assorbita bisogna stare più tempo a fare questo movimento affinché la crema venga assorbita ne basta veramente poca 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 l'altra crema che promuovo è la crema della Buonanotte viso, labbra e ciglia della Be Chic questa crema io l'ho acquistata tanto tempo fa non me ne avevo parlato prima perché non la utilizzavo sempre non mi ero ancora fatta un'idea chiara su questa crema quindi è più o meno un mese, un mese e mezzo che la utilizzo tutte le sere è una crema che mi piace molto è una crema in odore più che altro ha l'odore della crema Nivea non ho idea di come sia l'inci proprio non la più pallida idea però vi posso dire che è una crema che viene assorbita subito dalla pelle non unge non è pesante e la mattina dopo la mia pelle è morbida quindi diciamo che per quanto mi riguarda va bene su ciglia e labbra non ho idea di quale effetto abbia perché sulle ciglia io non vedo alcuna differenza sulle labbra utilizzo un burro cacao quando me lo ricordo quindi vi posso dire che sul viso mi piace tantissimo ultimo promosso è questo shampoo della Garnier Ultra Dolce ed è lo shampoo meraviglioso all'olio d'argan e di camelia nutre, ammorbidisce e fa brillare capelli secchi e spenti senza parabeni è questo qui ed è nuovo c'è naturalmente anche balsamo e la maschera che però io ancora non ho preso perché ho riacquistato lo splendore al cocco e ho ancora a terminare la crema per i capelli dell'Omia questo shampoo mi piace tantissimo perché appunto essendo per i capelli secchi non li secca non li fa certo fantastici perché i miei capelli comunque sono dei capelli rovinati, trattati la penultima tinta li ha rovinati tantissimo non questa tinta qui ma la penultima quella che me li ha bruciati però devo dire che utilizzando questo shampoo i miei capelli sembrano più o meno dei capelli normali fa tanta schiuma li lava molto bene e non mi prude utilizzando questo shampoo ho notato che il cuoio capelluto non mi prude per niente quindi è un'ottima cosa poi ha un prezzo normale un prezzo da supermercato 3, massimo 4 euro e mi sta piacendo tanto ne basta veramente poco per questo sono ancora qui però mi piace tanto ragazze questi erano i miei prodotti promossi e bocciati fatemi sapere quali sono i vostri prodotti promossi e bocciati se avete provato qualcuno dei prodotti che vi ho fatto vedere in questo video e noi ci vediamo col prossimo video un bacione ciao ciao